che riprende il nostro logo e devo ringraziare l'amico Geliere Oldani, amico Rotariano che l'ha prodotto per noi ed è una spilla con la quale queste donne spero ci ricordino sempre, scusa, fuori scaletta. Allora, questa donna speciale è commercialista esperta di negoziazione, contrattualistica e consulenza strategica di impresa. È presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Milano dal 1 gennaio 2017. La sua area di attività è prevalentemente aziendalista, con focus prioritario nel settore del diritto societario e nell'assistenza gestionale delle aziende. È specializzata nella gestione di transizioni di procedure conciliative. È componente del Consiglio Direttivo della Fondazione ADR Commercialisti ed è stata componente della Commissione Studi ADR del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili. Ma non è finita. Dal 2008, presidente della Commissione arbitrato presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. È stata già segretaria della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti, sempre di Milano. È docente accreditato presso diversi enti formatori per la conciliazione societaria, ora mediazione civile, oltre che relatrici a seminari e convegni presso gli ordini professionali su tutto il territorio nazionale. È inoltre giornalista pubblicista, autrice di pubblicazioni, libri e articoli per le principali testate di economia su temi di diritto societario, finanza e strumenti ADR. Allora invito la Presidente a proclamare la vincitrice. La nostra premiata vincitrice Donna Milano 2019 è Marcella Caradonna.